Ma sei, Sammi, no, tu sei interessato a me? Sì, te l'ho detto già due volte, anche l'altra volta l'ho detto. Fai il serio, sei interessato a me. A te ti interessa a Giovanna. Ma che cosa è cammino? Mi interessa continuare la tua conoscenza. A te ti interessa a Giovanna? Mi interessa a Giovanna, sì. Non vedi l'ora di portarmi fuori da qui? Me ne dai la possibilità? Ma va... No, ti do la possibilità. Io chiudo, guarda. Vuoi chiudere, Giovanna? Maria, ma stiamo scherzando? Ma tu mi stai prendendo in giro veramente? Ma tu non lo sai... Non ce la fai neanche a dirmela la bugia del... Sì, ti voglio portare via di qua. Perché non ce l'hai dentro. E io non te lo vengo più a cercare. Ma te l'ho detto, ma non ce la senti, me ce la ho. Sammi, credimi che la tua faccia ha parlato tanto. E credimi che a me mi dispiace proprio perché invece mi piacevi. Ma basta, ma va bene così, basta. Sammi, io non ti credo tanto, basta.